Il teatro Cursal Santa Lucia di Bari resta di proprietà della Regione Puglia. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi presentati dalla Fabris, precedente proprietaria, e dalla GUN, prima giudicataria del Cursal, contro i provvedimenti regionali di esercizio della prelazione. Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi dei legali della Regione Francesco Tanzarella e Vittorio Trigiani, ha così confermato quanto è già stabilito nel 2014 dal TAR. Soddisfatto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Proporrò all'aggiunti al Consiglio regionale, dice, di affidare il teatro alla Fondazione Petruzzelli affinché la struttura sia resa immediatamente agibile e fruibile per tutta la cittadinanza. Il Cursal sarà utilizzato non solo per le esigenze della Fondazione Petruzzelli, ma sarà aperto ad ogni altra necessità culturale e artistica della città di Bari.